Buongiorno a tutti, benvenuti alla consueta analisi settimanale dei mercati Forex, Indici e Commodity con il metodo ciclico HCI Envelo per quanto riguarda la settimana del 25 maggio 2020. Partiamo subito con il disclaimer, gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità, pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Sono Paolo Paisino, fondatore del sito tradingpertutti.com. Per euro-dollaro avevamo dato il picco massimo, lo vediamo il 25 di maggio e il minimo ciclico invece il 18 di maggio. Euro-dollaro è assolutamente ancora adesso piantato in totale lateralità, tolgo un po' di linee in modo tale che si vede meglio, lo vediamo che non si sposta sostanzialmente ormai dal 5 di aprile, quindi siamo da oltre 20 giorni chiusi all'interno di 220 pips che possono sembrare tanti, ma se prendiamo come riferimento la candela media che è di circa 80 pips, capite voi che entrare su una breccata multi-day vuol dire stare a mercato un giorno se va bene e poi dover uscire perché se già arrivate sul canale superiore, cioè sul lato superiore o inferiore del rettangolo di lateralità. Che cosa ci dobbiamo aspettare per quanto riguarda l'analisi di settimana prossima? Allora innanzitutto guardiamo il picco massimo quando si è verificato, si è verificato il 21 quindi anticipato di 4 giorni, teniamo conto che il 25 domani e del 1 di, il 21 è stato giovedì, quindi sostanzialmente abbiamo anticipato di un giorno, il massimo anticipato di un giorno quello che è stata la previsione, quindi perfettamente corretta, è interessante vedere che c'è stata la rottura della VTL a 20 giorni e poi successivamente immediatamente il suo recuperarlo, quindi rientrare e andare a posizionarsi al di sotto della VTL a 20 giorni. Si sta però in questo momento appoggiando sulle medie mobile cicche da 80 giorni e da 20 giorni, ricordo e soprattutto per chi mi segue per la prima volta che non utilizzo le medie mobili che normalmente vengono utilizzate e si dice che utilizzano gli istituzionali, io non conosco gli istituzionali, non ci ho mai lavorato, non ho mai avuto l'opportunità di entrare all'interno di un floor di un istituzionale o di una grande banca da fare, quindi mi limito a utilizzare ciò che so che statisticamente funziona perché l'ho provato io direttamente e non lo scrivo perché l'ho sentito dire. Nel trading servono delle prove tangibili, non delle teorie dove non abbiamo obiettivamente prove da poter utilizzare. Quindi utilizzo le medie mobili basate sui cicli, i cicli sono l'unico fattore che si ripete con costanza nel tempo a prescindere dal livello di prezzo, il tempo sempre quello è a prescindere dal livello di prezzo, quindi le medie mobili che utilizzo sono ricavate grazie ai cicli temporali. Essendo il prezzo in questo momento sopra le medie mobili cicli che ovviamente sconsiglia assolutamente una fase di ribasso da un punto di vista operativo. Il picco massimo è previsto sempre per il 25, vedete che ce l'abbiamo qua, il prossimo picco, il prossimo minimo è previsto, lo vediamo qua al 4 di giugno, lo vado chiaramente a mettere, 4 di giugno, andiamo abbastanza lontani, 4 giugno 2020, però bisognerà attendere tassativamente che il prezzo chiaramente vada a rompere le medie mobili e chiude almeno il di sotto di esse per poter andare a prendere poi l'operatività ribassista. Mi piace molto questa tenuta della VTL da 20 giorni perché mi dà praticamente la conferma che questa parte di ciclo che vedete che dura 20 giorni, anzi questa che dura 40 giorni, vede qua comunque il suo picco massimo confermato perché sostanzialmente l'ha appena rotta e quindi la posso considerare, io meno io considero ancora una VTL valida. Quindi vado ad aggiornare sul foglio Excel con il picco massimo del 25, il prossimo minimo è il 4 giugno del 2020. A punto di vista dei livelli prenderei ovviamente in considerazione solo livelli ribassisti, mi piace questo 1.08.82 per quanto riguarda uno short, invece per quanto riguarda l'opportunità realzista che comunque non prenderei minimamente in considerazione in quanto abbiamo comunque in questo momento ciclicamente la chiusura del ciclo da 20 giorni, sarà comunque il livello di 1.10.24. Ricordo a tutti che non ci si deve buttare a mercato perché è previsto un minimo ciclo con il 4 giugno del 2020, nel modo più assoluto. È importante, è importantissimo aspettare di avere delle conferme, dei segnali veri per poter entrare al mercato e qui chiaramente subentra l'analisi tecnica, la rottura di un livello di resistenza, la rottura di un livello di supporto, la rottura, beh non di una trendline perché le WTL sono molto più efficaci delle trendline perché hanno dei valori ciclici, quindi hanno un valore statistico molto superiore rispetto alle trendline che vengono tracciate unendo minimi e massimi sostanzialmente casuali, ok? In questo caso invece sono temporali e aspettate un vostro pattern a candene, insomma un qualcosa che confermi la bontà dell'analisi ciclica effettuata. Perché? Qual è il vantaggio dell'analisi ciclica? È che se come ad esempio in questo caso io prevedo un minimo ciclico il 4 giugno ma il mercato dovesse continuare a salire, semplicemente non subirei delle perdite. Perché? Perché il segnale rialzista, cioè il segnale ribassista non verrà generato, quindi non andrò a incorrere in perdite, è importante lavorare in questa maniera mi raccomando. Andiamo a salvare l'analisi e andiamo a vedere la sterlina, che cosa ha combinato? Sterlina continua nella sua fase di discesa, non molla un colpo, è tornata un pochettino protagonista la Brexit ovviamente, quindi con l'Europa che sta cercando in tutti i modi, del resto ci stava anche, sta cercando in tutti i modi di, evitatemi dire, di fargliela pagare un po' al Regno Unito, ok? Questa la sua decisione di uscire dall'Unione Europea, quindi sta mettendo il bastone tra le ruote per quanto riguarda le condizioni di uscita dall'Unione Europea e quindi sta chiaramente soffrendo un pochettino la sterlina che in questi ultimi tre giorni, sulle news sostanzialmente e le indiscrezioni è venute giù parecchie. Però c'è una bella situazione che questo ritesto della votiera a 10 giorni rimane invariato, il picco massimo era previsto per il 27, in realtà sapete benissimo che con lo spostamento di due giorni del prezzo causa mancanza delle due, diciamo, del sabato e la domenica per quanto riguarda la Metatrader, verrà chiaramente posticipato al 28, quindi cambia poco comunque, 27, ma dobbiamo mettere al 28 di maggio, quindi rimane al momento ancora valido un picco massimo per il 28, cosa vuol dire? Vuol dire che comunque un segnale ribassista io al momento non andrei a prendere, anche se la rottura di questo supporto sarà comunque un'indicazione molto importante per andare a vedere poi il successivo minimo, il successivo minimo ciclico sarà poi il 4 di giugno, lo andiamo a mettere, quindi siamo ben distanti da quella data, 4 giugno, quindi anche qua sulla sterlina non mi andrei a posizionare statisticamente con l'analisi ciclica al ribasso nel modo più assoluto, semplicemente perché il massimo è previsto per il 28, siamo sotto le medie mobile cicliche, quindi è sacro santo il ribasso in questo momento sulla sterlina, sostanzialmente di long non c'è assolutamente nulla in multi day, però per prendere un ribasso io aspetterei comunque il 28 di maggio, piuttosto si perde un treno, problemi non ce ne so, quindi vado ad aggiornare anche qua sulla sterlina le date, quindi avevamo messo il 19 di maggio per il rialzo, effettivamente il minimo si è venuto a fermare il 17 di maggio, quindi è stata corretta l'analisi, poi il ribasso era il 27, in realtà il massimo si è verificato il 19, sostanzialmente il prezzo è rimasto fermo immobile nel suo movimento, in quanto lo vediamo che comunque a partire dal 12 di maggio è andato a infilarsi all'interno di queste 180 pips dalla quale al momento fa fatica ad uscire, vediamo cosa si farà questa settimana, quindi vado ad aggiornare il foglio Excel andando a mettere 4 giugno il prossimo minimo ciclico e il prossimo, ops, 20, e il prossimo invece picco il 28 di maggio, quindi rimane invariata sostanzialmente la data del 24 2020, del 27, 28, 5, 20, del 27 di maggio, per quanto riguarda i livelli, allora in realtà è molto interessante il livello di 1,21,50 perché, quindi lo stesso sostanzialmente di settimana scorsa però al ribasso, è interessante perché avremo sia la rottura della VTL che la rottura della FLD, dell'FLD in questo caso 10 giorni, quindi sarà comunque un livello importante, ma necessiterà per forza comunque di conferma, perché ripeto, fino al 28 io ci penserei due volte, andiamo a posizionare il rialzo, il 28 è la fine della settimana sostanzialmente, è giovedì, quindi abbiamo tutta la settimana che ha comunque una fase, una spinta rialzista sulla sterlina, e quindi 1,21,50 per il ribasso e il rialzo ovviamente vado ad aggiornare il livello, lo posiziono qua, scusate mi allievo un attimo la FLD, ok, lo vado a posizionare a 1,23 e 0,8 per quanto riguarda un rialzo, salviamo, andiamo adesso a vedere se audio SD che settimana scorsa non aveva dato, diciamo, nessuna possibilità di trading sostanzialmente, ha generato una qualcosa, ok, allora, audio SD, niente, continua ad essere completamente imbambolato, fermo immobile, completamente immobilizzato, lo vediamo nell'arco di 230 pips, comunque con candele che hanno una durata media di circa 80 pips, quindi capite voi che anche in questo caso andare a prendere una breccata inizia ad essere un po' tardivo come segnale per poter entrare al mercato, avevamo messo no analisi 18 maggio, mi sa che no analisi rimane ferma anche per quanto riguarda questa settimana, andiamo a vedere i cicli superiori, i cicli superiori vedono, questo è un ciclo a 40 settimane, ok, questo che vediamo qui è un ciclo a 40 settimane, vedono appunto il 40 settimane al ribasso e il 20 settimane, che in realtà è questo qua, no scusate, il 40 settimane al rialzo, lo si vede bene in questa situazione, prossimo comunque al suo picco, quindi prossimo alla fase di lateralità e il 20 settimane invece è perfettamente ribassista, perché lo vediamo, abbiamo il picco qua del ciclo a 20 settimane, quindi abbiamo ancora una bellezza di 7 settimane, quindi circa 150 giorni di ribasso per quanto riguarda l'AudiUSD, quindi abbiamo una spinta che io considererei meno 1 ribassista perché considero neutrale il 40 giorni, quindi un meno 1, per quanto riguarda invece l'80 giorni, vediamo che anche l'80 giorni, che è rappresentato in questo caso con un 96 giorni, un 80 giorni nominale, è molto vicino al suo picco massimo, lo vediamo, ok, qui c'era il suo picco massimo, quindi siamo già nella fase ribassista per quanto riguarda l'80 giorni e abbiamo anche, li vediamo qua, il ciclo a 40 giorni e il ciclo a 20 giorni, che però in realtà sono loro ancora in una fase rialzista, quindi abbiamo un meno 2 del 20 settimane e dell'80 giorni, ma un più 2 del 40 giorni e del 20 giorni, che quindi ci restituisce tanto per cambiare un 0, 0 cosa vuol dire lateralità? Siamo in fase di lateralità da diversi giorni perché non c'è armonia tra i cicli, non c'è allineamento tra i cicli, vuol dire che abbiamo dei cicli che hanno una fase di rialzo, dei cicli che hanno una fase di ribasso, questo comporta una lateralità, perché? Perché un trend di mercato non si forma così per caso, ma si forma quando abbiamo i cicli che sono correlati tra loro, sono in armonia tra loro, quindi quando abbiamo i cicli che hanno tutti o più cicli che hanno la stessa fase, ricordo comunque è spiegato nel webinar gratuito che trovate in home page, nel mio sito che vi appare immediatamente in home page, che un trend di mercato si ha quando abbiamo diversi cicli che sono nella stessa fase, la stessa fase è all'interno di un ciclo, siamo nella sua parte di rialzo o parte di ribasso, sommando i vari cicli abbiamo una tendenza, avete visto, ve lo spiegate, ve l'ho appena dimostrato, lo dimostra il prezzo stesso, che in questo momento abbiamo cicli che dicono long, cicli che dicono short e quindi il risultato è zero, quindi totale fermezza, lateralità da parte di, in questo caso di Audi USD, però è bella questa rottura della VTL, rottura della VTL da 20 giorni ci andrebbe a confermare questo come area di picco del ciclo a 20 giorni e quindi possibilità di vedere un ribasso fino al più o meno all'8 di giugno, noi abbiamo comunque un picco ciclo al 25 di maggio, e lo vado comunque a mettere, ok, e il prossimo minimo ciclo che ho previsto per il 30 di maggio, quel che non mi piace in questa situazione è il fatto che in realtà la proiezione dell'indicatore ci dà, qui vedete un'area di massimi, non ci dà un'area di minimi, quindi è un qualcosa che mi mette forte dubbio su il fatto di poter entrare al mercato in multidate, tra l'altro siamo come si può vedere molto bene sopra alle medie immobili cicli che questo impedisce sostanzialmente al mercato di poter, e anche noi, di poter prendere un'operatività ribassista con convinzione, perché fin quando il prezzo rimarrà al di sopra delle medie immobili cicli che chiaramente andare a prendere uno short diventa un qualcosa di non corretto, perché la statistica c'è contro, ok? Comunque andiamo a segnare il minimo ciclo il 30 di maggio, ok, e vado comunque a confermare anche per questa settimana la non fattibilità di un ribasso assolutamente, quindi per il 25 settimana, il 25 maggio, no anali, cioè no trading, ok, ok, perfetto saldiamo, e andiamo adesso a vedere, quindi audio usd, no scusatemi vado comunque ad aggiornarlo sul foglio Excel, mi stavo già scordando, quindi 25,520 per il ribasso, il rialzo come ho detto 35,20 e i livelli, andiamo a vedere i livelli, ora innanzitutto aggiorniamo questo livello di resistenza lo andiamo a posizionare a 0,6618 e sarà il livello da utilizzare per un eventuale rialzo del mercato invece per quanto riguarda lo short, il livello più corretto potrebbe essere questo 0,6447 ok, che però vedete il livello di supporto coincide perfettamente con la media mobile del ciclo a 90 giorni 80 giorni nominali che sarebbe un 96, questo rende ancora più insicuro andare a posizionarsi al mercato tra l'altro vedete che la media mobile, in questo caso 24 periodi, ha già rotto il rialzo la media mobile del ciclo principale e quindi è ancora più sconsigliato andare a prendere un rialzo eventualmente aspettiamo poi le date del minimo per andare a prendere un long e sconsiglia quindi anche il ribasso ancora di più di un rialzo perché sconsideriamo o quantomeno non consiglio anche un rialzo semplicemente perché deve andare a chiudere il ciclo, questo vorrebbe dire posizionarsi al mercato rischiare di vederlo scendere e poi ripartire quindi preferisco aspettare la formazione del minimo ciclo piuttosto che per il treno della vita non mi interessa ma avere un'operatività più sicura dal punto di vista statistico molto ma molto più sicura andiamo a vedere adesso euro gbp ok allora euro gbp avevamo dato 19 maggio picco massimo e il 23 di maggio il minimo ciclo in realtà qui è evidente che non è successo praticamente nulla il massimo ciclo si è verificato il 19 di maggio chiaramente il 23 di maggio era impossibile perché era un sabato e quindi il minimo si potrebbe considerare domani il 25 ma sostanzialmente 6 giorni vedete che il prezzo è rimasto praticamente da quando noi abbiamo fatto l'analisi che l'analisi è stata il l'analisi è stata domenica 17 che qua il prezzo è da domenica 17 ha fatto 50 pips giù 47 pips su quindi è totalmente completamente fermo in laterale non ha dato un segnale a rialzo non ha dato un segnale a ribasso sostanzialmente è un'operatività che si è rivelata totalmente inutile l'analisi non posso dire che sia stata corretta non posso dire che sia stata sbagliata perché il mercato semplicemente non si è mosso ok andiamo a vedere i cicli superiori quindi i superiori ci danno cicli da 40 settimane ci danno il 20 settimane che questo è rialzista e 40 settimane che questo è ribassista quindi tendenza completamente neutrale quindi lateralità totale abbiamo invece una fase di rialzo per quanto riguarda il ciclo da 80 giorni 40 giorni e 20 giorni quindi la spinta rialzista in realtà qui è stata confermata qua iniziamo ad avere la nonne e tendenza per quale motivo? perché iniziamo ad avere il 40 giorni e il 20 giorni che sono in fase di ribasso e scusatemi il 20 giorni e il 10 giorni che sono in fase di ribasso il 40 giorni e l'80 giorni che sono in fase di rialzo quindi anche in questo caso abbiamo il risultato zero infatti il mercato si rimuove imballato completamente questa è la dice lunga scusatemi lo spavento del vento che ha sbattuto la persiana la dice lunga su la difficoltà di fare trading in questo momento anche su EuroGVP sostanzialmente un po' tutti gli strumenti sono in una fase di totale lateralità che rende difficile l'operatività in multidess se no rimanendo al mercato per mesi vedendo il prezzo sostanzialmente completamente fermarsi in una totale lateralità che non è che sia proprio bello da un punto di vista operativo ok? allora cosa aspettarci? innanzitutto abbiamo un minimo previsto per il 24 quindi barra 25 che è domani e un massimo previsto già per il 27 quando abbiamo la presenza di massimi e minimi ciclici così vicini ovviamente riesce fuori che non vale la pena operare e quindi vado a completamente diciamo ignorare quello che il picco ciclico del 26 mi concentra un pochettino di più sul minimo del 2 di giugno andiamo a vedere come siamo posizionati con le medie siamo molto vicini alla media mobile del ciclo in questo caso a 15 giorni tutto sommato non abbastanza lontano la media mobile dal 60 giorni quindi 80 giorni nominari per poterci posizionare al ribasso quindi anche in questo caso io attenderei un segnale rialzista però dopo comunque il ritracciamento del mercato quindi mi piace l'idea poi dello short più o meno intorno cioè scusatemi della possibilità di andare a prendere un segnale intorno ai primi di giugno andiamo a metterlo voglio vedere se è possibile è 26 quindi qui si tratta di aspettare 25 barra 26 1 o 2 giorni prima di posizionarci al mercato non vado a long quando tra 1 o 2 giorni è un picco ciclico anche se si dovesse verificare il segnale più spaziale del mondo non ci andrei comunque possiamo iniziare a levare un po' di VTL allora vediamo un po' se c'è qualche VTL a poter tracciare al momento direi che non ce ne sono non se ne vedono perché le uniche VTL che abbiamo sono sui cicli più piccoli e inferiori cose che chiaramente non posso tracciare sul daily quindi vado a eliminare questa VTL qua mantengo questa e anzi andiamo a creare questa nuova VTL del ciclo 60 giorni che quindi è questa qui la recicliamo ok mi posiziono qui vedete che tra l'altro andare a prendere uno show guardate come coincide molto bene la FLD scusatemi la media mobile del ciclo 60 giorni con la VTL del ciclo 60 giorni quindi questa sarà un'area di supporto importante e preferirei attendere appunto i primi giorni di giugno andare a prendere eventualmente sia il rimbalzo della VTL che il rimbalzo eventualmente della media mobile quindi andiamo ad aggiornare il foglio Excel con il minimo previsto per il primo di giugno e il massimo previsto io metto il 26 di maggio 2020 per quanto riguarda i livelli livello per un long 0,90,02 e invece per quanto riguarda lo short ovviamente bisognerà aspettare la rottura di questo supporto in area 0,88,72 però io sconsiglio l'operatività quindi mi auguro che venga guardata l'analisi prima di prendere soltanto i livelli come per buoni e quindi anche le date di inversione come per buona senza guardare l'analisi che non sarebbe troppo corretto andiamo a vedere adesso il crude come si è comportato avevo sbagliato a scrivere giusto mi avevo anche mandato la mail avevo scritto 259.95 che era evidente che non potesse essere il livello corretto il petrolio continua inesorabile nella sua salita noi continuiamo a non poter prendere diciamo occasioni di trading il che non porta nessun tipo di problema se do un picco massimo 19 di maggio non è che il 19 dovete posizionarvi al ribasso per carità non funziona così l'analisi ciclica è vero che raramente sbagliamo ok la previsione molto molto raramente però come dico sempre lo ribadisco va sempre nel modo di più assoluto aspettata una conferma sempre ho cercato una conferma per andare al mercato perché sennò si perde un trading a me non interessa di essermi perso il minimo da 9.78 fino al massimo da 33.39 adesso non mi interessa perché comunque io devo fare trading sicuro con la statistica della mia parte e con la probabilità di essere della parte giusta del mercato nella maggior parte dei casi quindi non entrare quando vedo un massimo minimo perché sarebbe una figata scusatemi il termine sarei multimilionario se ogni mia singola data coincidesse sempre e dico sempre con il picco o il minimo quasi sempre succede questo ma non sempre è impossibile chiaramente ok qua ci sono non vanno ignorati anche delle componenti extra analisi come comunque gli stati mondiali che iniziano piano piano a riprendere a vivere quindi riprendersi a muoversi se sta riprendendo l'economia pian piano sta recuperando sta aumentando leggermente il consumo di petrolio quindi ovviamente con una domanda superiore ci sarà un prezzo che tenderà ad alzarsi c'è stato un ulteriore taglio da parte dell'OPEC e dell'OPEC più che molto probabilmente in questo momento sta facendo vedere quello che doveva teoricamente essere visibile già nelle settimane scorse quindi un aumento delle quotazioni del petrolio ok attenzione al posizionarsi al mercato però questa volta a differenza delle settimane scorse ricordate che comunque l'ho sempre detto attendiamo che il mercato arrivi alla media mobile perché la media mobile sarà una resistenza importante da un punto di vista chiaramente tecnico ciclico anche in questo caso siamo anche noi possiamo vedere su un bel livello di 32,49 32,50 che coincide con la media mobile del ciclo a 106 giorni che in questo caso per me è un 80 giorni nominale quindi questa sarà una resistenza è una resistenza importante ovvio che per poter andare a posizionarsi al ribasso in quanto il minimo ciclico prossimo è previsto per il 31 di maggio primo di giugno e quindi mantengo questo 19 che diventerà domani perché comunque io già domani andrei a cercare degli short dal punto di vista ciclico mi raccomando attenzione anche se il prossimo picco è previsto verso il 26 quindi martedì poco cambia probabilmente chi continua sempre solo a criticare la mia operatività quando c'è un'analisi che si è rivelata non sbagliata perché lo dico sempre non ha generato opportunità perché l'analisi ciclica se ci può evitare di perdere i soldi io sono contento perché se mi aspetto uno short e il mercato sale semplicemente non avrò segnali di ribasso e non entro al mercato quindi non perdo il denaro però per chi appunto mi vuole e continuo a criticare la mia operatività perché chiaramente vedere che un qualcosa dà dei risultati nettamente superiori a quello che si fa da una vita dà fastidio ok semplicemente non mi interessa perché lo ribadisco non perdo il denaro cosa che invece succede quando battezzo un long con l'analisi tecnica entro long perché il segnale mi viene sempre generato come falso segnale e poi me lo ritrovo me lo ritrovo conto io semplicemente sto perdendo delle opportunità rialziste un mio corsista diciamo uno dei corsisti che ha acquistato il pacchetto completo quindi indicatore più corso di analisi ciclica mi fa fischia mi continua a rimpiangere non essere entrato long a 10 dollari su petrolio ma dov'è il problema lo dico sempre dimenticati di questa cosa qua non cerchiamo il trade della vita noi cerchiamo più opportunità sul petrolio da fare tutti i giorni anche perché lavorando con l'interesse composto quindi lavorando come lavorano i professionisti quindi lavorando con una site in percentuale sul saldo e non una site fissa ok fare 5 trade da 10 da un dollaro di movimento sul petrolio si guadagna molto di più che fare un trade dà lo stesso quantitativo di dollaro di movimento di petrolio ma molto ma molto di più si guadagna quindi è molto più conveniente stare al mercato poco e statisticamente abbiamo anche meno possibilità che il mercato venga sporcato da una news o da un qualsiasi dato macroeconomico che potrebbe mangiarci tutto il movimento ok e 2 appunto guadagniamo molto di più il professionista lavora tenendo conto di quanto è la montata del suo saldo e quindi rischiare sempre una percentuale fissa di quel saldo lì perché vuol dire che se il mercato ci va conto e prendiamo più stop loss la nostra site si abbasserà se invece il mercato ci andrà a favore e quindi aumenterà il nostro saldo la nostra site aumenterà ma sempre ed esclusivamente con la stessa percentuale di rischio per ogni trade che può essere 2-3% 4-5% che è esagerato che potrete scegliere voi ma quella sempre deve essere la stessa ecco perché anche tutti i servizi dove io condivido la mia operatività a scopo didattico necessitano l'utilizzo di questo metodo di gestione del money management non l'entrata fissa perché io non ho lo stop fisso di 10 punti o 100 punti soprattutto sul DAX ma anche sulle valute posso averne 50 posso averne 100 posso averne 70 dipende dove è posizionato il massimo o il minimo ciclico ma me che siano 100 70 50 20 costa sempre 2% in operazione e questo è importante che lo facciate anche voi perché vi assicuro che vi cambia completamente il modo di fare trading ok tornando alla nostra analisi vado ad aggiornare il foglio Excel quindi vado a mettere il minimo il primo di giugno e il massimo il 26 di maggio livelli di prezzo long che comunque ora non c'entra 36 33 vediamo di scrivere giusto questa volta ok e invece lo short con il minimo di 29,93 29,93 mi piace in questo caso perché abbiamo diverse situazioni che ci dicono che siamo mi auguro probabilmente sul picco corretto 1 il prezzo si è appoggiato alla media mobile ciclica che qua sembra che si sia comunque fermato 2 avremo la rottura di un livello di supporto che andrà a confermare anche il livello di resistenza ok la cosa che non mi piace a parte che la devo andare a cambiare a 106 la devo metterla a 26 ok era già da 26 prima pardon niente no c'è veramente poche differenze quello che non scusatemi che dicevo che non mi piace è che comunque la media mobile del ciclo è da 26 giorni è molto vicina al prezzo quindi anche una rottura la vedrà rimbalzare immediatamente sul livello di 26,90 però rimane comunque sotto la media mobile del ciclo da 20 giorni e certo che se si avvicinasse un po' di più alla media mobile del ciclo da 106 giorni mi piacerebbe di più perché ci andrebbe poi una sua rottura a confermare la chiusura del ciclo che se vi ricordate ho sempre detto da settimane lo dico anzi da mese lo dico ciclo che andrà a chiudersi i primi giorni di giugno e allora sì che dei primi giorni di giugno si potranno prendere delle operazioni ciclicamente parlando rialziste con più sicurezza perché avevamo una statistica da parte nostra favorevole ok poi magari verremo smentiti non importa se il petrolio vedo che non risponde in questo caso a un ciclo da poter lavorare in multi day senza stare a mercato mesi per vederlo muovere con sicurezza io semplicemente il petrolio in multi day non lo faccio ho risolto il problema infatti il petrolio lo faccio poco ultimamente lo faccio soltanto in intra day lo sto facendo poco perché non mi dà neanche segnali operativi non ritraccia mai non ritracciando mai le nuove possibilità tranne una volta solo di poter entrare al mercato ma il problema non c'è ripeto francamente non mi crea nessun tipo di problema ho aggiornato yes quindi possiamo andare anche a chiudere qua andiamo adesso a vedere il buon DAX ah no scusate andiamo a vedere se c'è qualche WTL da tracciare su oil questo ormai non vale più nel senso che è già stata rotta quindi non ci serve più WTL del ciclo 5 giorni non ne ho questo era il ciclo da 10 giorni un momento questo è il WTL del ciclo da 10 giorni quindi andiamo a cambiare il colore e qua vedete che tra l'altro è molto interessante perché la rottura della WTL di 10 giorni mi confermerà anche questo come piccolo del ciclo 20 giorni che io mi aspettavo qui e invece molto probabilmente si starà formando qua fermo restando che abbiamo già visto e assistito qui alla rottura della WTL del ciclo 20 giorni e questo potrebbe essere un campanello d'allarme che forse me ne sto accorgendo un po' tardi che ci dice che in realtà il minimo ciclo potrebbe essere stato questo qui il minimo del ciclo da 106 giorni e che quindi un ciclo da 106 giorni che ci sta dal punto di vista statistico se è un ciclo da 80 giorni nominali ok i cicli passati erano tutti da 106 quindi io confido che sia ancora corretto aspettiamo una conferma sarà interessante mi auguro vedere una rottura nuovamente dell'FLD del ciclo da 26 in questo caso 28 e poi la sua rottura nuovamente al rialzo dovrebbe confermare questo come minimo ok del ciclo a 106 giorni quindi salviamo e andiamo a vedere il DAX che settimana scorsa non prevedeva operatività abbiamo lavorato molto bene in intraday con il DAX questa settimana anche se abbiamo preso due stop purtroppo l'altro ieri ne ha colpa ho tradato la lateralità e giustamente l'ho pagato però nel complesso della settimana è stata una settimana profittevole sul DAX siamo al 12% in questo momento sul mese di maggio per quanto riguarda soltanto il DAX dal punto di vista operativo solo per chi ha seguito il money management per chi è entrato con site fissa è in perdita ve lo dico chiaro e torno è in perdita perché il numero dice lo stop loss non è mai uguale nella mia operatività lavoro in maniera sensata quindi seguendo le regole che il mercato mi dice di seguire e non il stop stretto che è una cosa che io non reputo per quanto riguarda il mio medio che è chiaramente corretto ok allora VTN circa 10 giorni breccata però in realtà il DAX continua ad essere immobilizzato in 1000 punti no 100 punti 1 100 1125 quasi in realtà 11100 10.300 quasi 1000 punti era corretto sono anche più capace a contare sembrano tanti però con un DAX che muove 400 punti a candela capite voi che è difficile lavorare in multiday quindi continua a rimanere non lavorabile in multiday nel modo più assoluto il DAX quindi inutile andare a fare un'analisi e una delle caratteristiche che ogni trader deve avere ma io stesso di stupidaggini ne faccio perché tutti le facciamo anche chi dice di essere freddo non è vero fidatevi che le cazzate le facciamo tutti è l'ostinarsi e lavorare se non ci dà possibilità di lavorare in multiday il DAX non si lavora punto poi sono metodi c'è chi fa solo long sul DAX e si prende magari in fronte un movimento di 7000 pips di 7000 punti però continua a cercare solo long c'è chi cerca solo short e quindi si ritrova magari come in questo caso a prendersi in fronte un movimento di 350 punti o magari ancora di più come è stata la fine di marzo poi c'è chi lavora long e short come facciamo noi perché la cicca ti permette di lavorare long e short con uguale sicurezza poi avere il limite di non lasciare correre io ho questa tendenza di far fatica a lasciare correre tanto il mercato nonostante io sappia esattamente quando chiude un'operazione cosa che non si può fare con l'analisi tecnica ognuno di noi ha dei limiti però una cosa dovrebbe accumularci tutti dovremmo fare sempre non capisco perché il testo scorrevole e si cancelli dovremmo fare sempre è quella di se non ci sono possibilità di fare trading non farlo punto è l'unica cosa che dobbiamo fare quindi DAX settimana del 25 di maggio no trading molto semplice ok perfetto salviamo vado a fare quest'oggi bitcoin allora bitcoin abbiamo fatto l'ultima analisi era molto di lungo che avevo fatto avevo previsto un picco massimo intorno al 15 di maggio e un minimo intorno al 25 di maggio il picco si è venuto a verificare il 14 quindi è stata corretta l'analisi fatta un botto di tempo fa e il minimo dovrebbe essere il 25 quindi nella giornata sostanzialmente di domani in realtà per ora al minimo si è formato il 21 quindi comunque l'analisi risulta in questo momento corretta la tendenza in questo momento più sul medio e lungo periodo è chiaramente di oil è quella di andare a cercare indicazioni rialziste ok sul petrolio tra l'altro vediamo che il prezzo continua a rimbalzare sulla media mobile del ciclo a 40 giorni in questo momento sta anche rimbalzando in maniera molto interessante sulla media mobile del ciclo in questo caso a 20 giorni e vedete che il pezzo si trova anche sopra la media mobile del ciclo a 80 giorni quello a cui potremmo assistere è anche un ritest della media mobile del ciclo a 80 giorni ma già dove siamo è una situazione che mi piace parecchio qui c'è una VTL da poter tracciare del ciclo a 10 giorni lo andiamo a mettere che è questa tra l'altro e quindi la sua rottura ci darà la conferma di questo minimo quindi del minimo del ciclo a 80 giorni ma nel nostro caso il minimo del ciclo a 40 giorni che è questo che vediamo qua io farei una cosa andrei a mettere orizzontale il tutto anzi lo lascio inclinato però inclinato di poco in modo tale che si possa vedere un po' di più il ciclo faccio così e lo alzo e metto da un porto dosso semplicemente perché dovrei chiaramente andarlo a costruire sul ciclo e sulla tendenza in questo momento ma non è ancora confermata la chiusura del ciclo a 80 giorni e quindi non lo posso andare ancora a tracciare sta rimbalzando sulla media potrebbe in realtà la chiusura essere questa però io mantengo l'analisi fissa 72 giorni perché comunque le criptevalute variano tra un 68 e un 75 giorni come loro media di durata di ogni singolo ciclo per quanto riguarda l'operatività di medio questo da anni 6 ok quindi non vedo perché oggi il ciclo sulle i bitcoin vanno a cambiare andiamo a vedere il settimanale anche se è un po' un problema il settimanale vedete che è bello perché perché vede comunque un minimo più o meno intorno al 31 di maggio quindi ci dovremmo aspettare in questo caso un abbiamo il 20 settimane carriato quindi almeno un 10 settimane di spinta di alzista che poi è quello che vediamo qua ok andiamo ad aggiornare i prossimi massimi dovremmo vedere i prossimi massimi intorno ai 14 di giugno scrivo in inglese perché sono molto seguite all'estero le mie analisi per quanto riguarda le criptovalute molto di più che in Italia dove c'è ancora la convinzione che basta che qualcuno scriva che il bitcoin andrà a 50.000 e si dà credito a chi scrive queste stupidaggini perché sono stupidaggini chi spara dati spara cifre lo fa per una propria idea ok è un'analisi 100% soggettiva invece questa è un'analisi oggettiva perché il tempo non mente infatti vedete che io di cifra non parlo mai non mi interessa le cifre sono né più né meno che una conseguenza del picco di quando si verificherà un picco o un minimo e mantengo inalterato il minimo del ciclo 25 poi potrà essere 26 e poco cambia in questo caso perfetto vi do appuntamento a settimana prossima vi ringrazio già in anticipo per perché e per chi seguirà e guarderà questa videoanalisi vi do appuntamento alla prossima settimana e vi auguro una buona settimana ah dimenticavo cliccate sul il simbolino che vedete sotto cliccate in like mi fate una grossa cortesia e se vi è piaciuto il video se vi sono piaciuti l'analisi ciao a tutti buona settimana ciao ciao ciao